e bene a tutti ragazzi se volessimo il mio video io sono il basacchietto dell'ottoida e oggi giocheremo a peper il punto io questo qua veramente dovrebbe essere il mio, cioè si è il mio perchè l'altre volte l'ho sempre cancellato perchè non mi piaceva però adesso mi piace ancora di più non so non mi piace perchè quando l'ho sempre disinstallato mi devo fare fare tutto a capo infatti adesso ho una skin però vabbè dai le kill si fanno andando tipo così però è difficile cioè puoi diventare re devi formare questo qua più grande per diventare re adesso sto facendo piano ecco ho già sbagliato il gioco è molto difficile perchè cioè ti vengono tutti addosso cioè già che inizi già ti vengono addosso puoi distruggere anche quello la degli altri naturalmente che palle e volevi vorrei anche questo vabbè 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 scusa se non faccio tanti video perchè sto a casa dai miei ziii però adesso 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 li farò di più perchè tanto oggi vado via ah peccato però vabbè stiamo a 4 heal si le altre partite che ho fatto non le contate mi faccio veramente schifo che ho fatto e si è ucciso da solo ma che voi fate questo qua continuerà fino all'infinito ah ma so io il re non ho anche notato quindi ho stato avendo molta difficoltà uh quasi 9 kg andremo a casa non una Naccia sua Mamma mia ha ammazzato Naccia Gli vediamo tutto Spera che io lo rompo Spera che io lo rompo No Mori Oh nuova 10 kill No Non morire 11 kill Qua non si può Non si può mai vincere Continua Fino all'infinito Finchè non muori Allora tra poco forse morirò Lo scommettevo Vabbè dai Allora questo video finisce qui Spero che vi è piaciuto E ho vinto anche nuova skin Grazie a Dio Almeno c'era una E ci vediamo in un prossimo video Ciao ragazzi E ci vediamo in un prossimo video E ci vediamo in un prossimo video